Buongiorno a Gabriele Puzzilli, insomma la chiacchierata, diciamolo subito, l'espediente per fare questa chiacchierata è il fatto che Gabriele è social media manager più di una casa di produzione o di una realtà che si occupa di serie di cinema, ma nella fattispecie parleremo, partiremo dall'antepatto Tao 2 perché proprio venerdì insomma si è conclusa la serie Patriarca in onda su Canale 5. Quindi è interessante insomma capire che tipo di lavoro è diventato il tuo perché tu, tra l'altro ricordiamo, faccio un breve inciso, Gabriele ha lavorato come copy in agenzie tra Roma e Milano, quali publicist, J. Walter Thompson per citarne alcune, poi ha creato una propria realtà, una propria identità e lavora come freelance, praticamente come consulente di comunicazione, però ecco con un trascorso che le rendine della marca insomma è abituato a dirigerle in una certa maniera e con determinati crisi. E vogliamo capire, siccome nel duemiladiecie tu ti sei iniziato ad occupare di eh comunicare i contenuti, com'è cambiato dall'ora a oggi? Tanto partiamo insomma su cosa hai fatto per l'ultima puntata, come si approccia un'ultima puntata di una serie come Patriarca? Come ultima puntata, vabbè, ovviamente abbiamo fatto eh partendo soprattutto dal lancio, diciamo facciamo un piccolo passo indietro, dal lancio di una serie o di questa serie qui. Sono stati fatti, diciamo il lancio di solito viene fatto eh un mese prima della messa della messa in onda dove ci sono comunque una serie di step da seguire, un piano editoriale ben specifico eh che viene concordato diciamo sia con la casa di produzione sia con la rete nel senso in questo caso con Canale 5 perché ovviamente ci sono delle eh diciamo anche dei del delle organizzazioni interne o diciamo ci sono anche delle ehm dinamiche da rispettare che non non bisogna fare ecco appunto fare dei troppi spoiler o bisogna raccontare eh diciamo in che modo viene girata la serie, quando 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 andrà in onda diciamo si parte dal lancio dopodiché nella nella fase di lancio c'è una comunicazione sui social network in questo caso noi abbiamo un comunicato sui social network della serie della scusate della 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 casa di produzione perché non si sono in questo in questo caso non si è aperta non si sono aperti dei social network specifici della della serie dove qualche fino a qualche tempo fa si faceva questo poi dipende da 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 diciamo da diciamo da se la serie ha un continuo se non ha un continuo se c'è un diciamo se hanno delle stagioni scritte o non scritte e in questo caso diciamo la comunicazione si è fatta soprattutto sui social network delle case di produzioni che l'hanno prodotta che erano in questo caso che erano in questo caso erano i due sia la Tau2 e la Camfilm e veniva fatto diciamo è stato fatto una comunicazione eh attraverso eh Facebook Instagram eh Twitter e anche LinkedIn diciamo ogni poi ogni social ha diciamo un piano editoriale un po' differente a seconda a seconda a seconda anche del tipo di target dove che andiamo a parlare perché su Facebook andiamo a parlare a un target che è un pochettino più alto sono persone che seguono in questo caso canale cinque o la casa di produzione da parecchio tempo dove c'hanno dei ricordi di fiction diciamo vecchie di che hanno fatto un successo enorme da squadra antimafia distretto di polizia così e lì diciamo hai una comunicazione un po' hai una comunicazione un po' differente rispetto a quella che si può fare su Instagram che è un target un pochettino più giovane un po' più smart devi comunque comunicare attraverso anche delle stories no di quindici secondi e diciamo adesso sono si sono un po' allungati con un nuovo con un nuovo format lo stesso su Twitter e su LinkedIn adesso siamo andati anche su LinkedIn perché comunque è un diciamo è un social è un social netto che è un social network che ha con i cambiamenti che ha avuto in questi ultimi tempi che ci sono proprio delle pagine aziendali che tu le puoi gestire come diciamo come una pagina Facebook e mettendo e lì però noi in questo caso facciamo una comunicazione differente andiamo un po' più a comunicare delle cose un po' più business tra virgolette nel senso andiamo a far vedere la rassegna stampa dove sono usciti gli articoli andiamo a far vedere la rassegna stampa dove sono usciti gli articoli andiamo a mettere dei promo che sono differenti rispetto a meno consumer più professionale meno consumer sì anche il linguaggio diciamo sono è lì diciamo andiamo a informare soprattutto il pubblico della all'appuntamento a e questa fase di lancio come dicevo dura un mese dopo di che si parte anche nella nel momento in cui c'è la messa la messa in onda si inizia poi a fare una comunicazione più massiccia diciamo durante la messa in onda diciamo durante le sei settimane in questo caso del patriarca di sei settimane si fa una messa in onda cioè si fa una comunicazione più massiccia dove ogni giorno andiamo a comunicare anche attraverso tre quattro cinque post poi a seconda io me li gestisco a seconda anche dei giorni della settimana per esempio il patriarca andava in onda il venerdì e di conseguenza lì io mi faccio un piano editoriale che parte dal giorno della messa in onda che è il venerdì e andiamo a comunicare lì il promo e facciamo delle stories andiamo a comunicare attraverso anche attraverso gli attori gli attori stessi nel senso andiamo a chiedere agli attori se c'è se vogliono fare un lancio attraverso dei video delle stories comunque è un lavoro che c'è un'organizzazione diciamo molto approfondita anche durante le riprese noi andiamo sui set per raccogliere del materiale che poi verrà usato durante la messa in onda o durante diciamo la promozione per esempio delle cose che facciamo sono quelle che andiamo nei set e nei giorni in cui sappiamo che vengono girate delle scene un po' diciamo diverse non diciamo delle scene statiche oppure un dialogo oppure delle location particolari così andiamo 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 lì e facciamo dei foto video che a volte facciamo anche delle delle live delle dirette direttamente sul set no andiamo sul set e comunichiamo sui social che stiamo lì sul set magari raccogliamo qualche battuta di qualche attore un saluto così facciamo anche un racconto di questo di questo genere o se no raccogliamo il materiale e poi lo usiamo come dicevo nella messa in onda durante la messa in onda durante il periodo di comunicazione della messa in onda per esempio facciamo vedere una scena facciamo un confronto tipo una scena come è stata girata e la mettiamo accanto alla scena come viene vista in tv facciamo vedere queste piccole cose per far conoscere anche soprattutto agli utenti in un backstage il mondo che c'è dietro al c'è anche un interazione live c'è durante la messa in onda ad esempio dell'interazione questo c'è tantissimo quando c'è il diciamo il giorno di messa in onda la sera di messa di messa in onda noi facciamo il live il live tweeting cioè a parte seguiamo la puntata a volte anche con degli attori la seguiamo insieme facciamo dei video per raccontare che che loro stanno seguendo gli facciamo vedere e anche su twitter viene fatto un live un live tweeting cioè si racconta la puntata attraverso o dei video o dei frame di scena così e comunque vediamo comunque anche gli utenti che scrivono commentano noi possiamo rispondere rituitiamo rispondiamo ad alcuni commenti che fanno in diretta se ovviamente se non non ti ho sentito menzionare tik tok per scelta tik tok allora in questo caso è stata una scelta perché diciamo nello specifico è stata una scelta perché nessun attore che era coinvolto nella serie aveva il profilo tik tok e di conseguenza abbiamo scelto diciamo di non andarci per motivi diciamo di comunicazione e invece sempre in questi diciamo i mesi i mesi scorsi per un'altra casa di produzione che aurora tv abbiamo lavorato per una serie che si chiama le cronache di nanaria che è una serie rivolta a un pubblico molto giovane dai 13 ai 14 15 anni è stata mandata in onda su rai giovane è stata mandata in onda su rai gulp è un pubblico kids diciamo per rai kids e lì appunto abbiamo aperto invece un profilo tik tok e perché il pubblico era diciamo l'utente nostro era molto vicino al al diciamo al social tik tok poi perché parlava di una di un argomento eh del sulla dislessia era una serie sulla dislessia di sulla dislessia di questa ragazza di dodici anni che c'era dislessica come affronta la dislessia a scuola e ed è stato molto utile perché attraverso anche i social network abbiamo potuto comunicare anche diciamo un argomento un po' scolare soprattutto nelle scuole ancora diciamo che tipo di obiettivi vi date insomma la comunicazione sui social deve creare engagement deve fidelizzare deve portare nuovi ascoltatori come sta andando anche in termini di numeri perché a volte viene da chiedersi se appunto anche i like poi abbiano un'effettiva efficacia no in questo caso di visione soprattutto gli obiettivi ce li diamo certo e diciamo noi ci diamo vari obiettivi in senso nell'obiettivo di lancio quello che noi cerchiamo di fare è di portare le persone diciamo a vedere la serie più persone possibili a vedere la serie raccontando diciamo quello che si può raccontare facendogli venire voglia di vedere di capire il primo obiettivo è quello di portarli il giorno di messa in onda dopodiché c'è c'è l'obiettivo quello di mantenerli cioè mantenerli e e diciamo riportarli poi nelle successive puntate il mantenimento il famoso mantenimento è quello di cercare attraverso comunque il fatto di creare un piano editoriale così proprio per cercare di portare queste persone a diciamo a trascorrere più tempo possibile sui social per avere più informazioni possibili per poi dopo portarli a vedere la serie a ricordare che c'è una corrispondenza diciamo tra successo social e successo della serie e sì nel senso che ovviamente le serie che hanno avuto grossi ascolti si sono anche poi riportati sui social netto nel senso che noi lo vediamo attraverso soprattutto attraverso twitter il giorno di messa in onda proprio lo vediamo attraverso twitter perché ovviamente tutte le discussioni tutti i tweet che vengono fatti sono accompagnati da un hashtag ufficiale che in questo caso era il patriarca hashtag il patriarca e lì attraverso diciamo i tweet noi capiamo se il giorno della messa della messa in onda se vai in in trend topic significa che comunque c'è un'interazione e la maggior parte delle volte certo i numeri sono un po' differenti tra la messa in onda e diciamo i social soprattutto i tweet però per esempio noi abbiamo una serie che adesso non c'è più si chiama squadra antimafia dove è stata la prima serie italiana a raggiungere il milione di fan su facebook e ti parlo di qualche anno fa perché l'ultima stagione di squadra antimafia se non mi ricordo male è andata in onda intorno al 2016 2017 ed è stata la prima serie italiana a raggiungere a superare il milione e quello noi quando mi ricordo andavamo in onda e con la serie con le stagioni sulla pagina facebook avevamo un'interazione che arrivava anche arrivata anche a dieci milioni di interazioni cioè diciamo che dipende molto da che tipo di serie però alcune volte si ha una percezione se la serie va bene di conseguenza anche sui social aumenta aumentano le interazioni no perché la domanda è anche appunto quella da cui partivamo un po' come è cambiato hai iniziato a occuparti di questo tipo di comunicazione per questo tipo di realtà nel 2010 sì i dati della televisione erano un po' differenti no? la parcellizzazione se vogliamo era minore quindi sai la domanda è sempre quella si fa tanto per poi ottenere meno insomma ecco come si giostra tra questi numeri tra questa offerta quasi bombardamento di cose no? che distoglie l'attenzione per forza inizialmente allora nel 2000 io ho iniziato a occuparmi diciamo della parte social attraverso diciamo le case di produzione così nel 2000 sì nel 2010 2008 2008 era diciamo nel 2007 era appena arrivato facebook in Italia e da lì io mi sono iniziato un po' a interessare diciamo a questa novità e poi piano piano vedendo sempre di più le cose che si potevano fare su facebook e inizialmente attraverso un mediaset diciamo è stata la prima diciamo il primo aggancio con appunto con squadra antimafia e RIS che è un'altra storica serie e abbiamo iniziato ad aprire le prime pagine su facebook dove ovviamente lì c'era un allora su facebook era appena iniziato c'erano i numeri che erano bassi in televisione facevano dei numeri pazzeschi cioè delle serie facevano 4, 5, 6, 7 milioni, 8 milioni cioè dello share che superava il 25% adesso lo vediamo con Sanremo una volta all'anno eh sì con gli anni appunto con gli anni questo si è abbassato tantissimo cioè nel senso che col fatto che c'è molta più scelta il pubblico può comunque è cambiato e c'è molta più ma dico anche nei social cioè comunque si può traslare anche nei social è più difficile ottenere grandi numeri è più difficile ottenere grandi numeri certo perché prima ovviamente essendoci soltanto un social network per esempio mi ricordo se era soltanto facebook si concentrava tutto lì invece adesso essendoci più social network con target differenti cioè nel senso su tiktok parli a un pubblico che arriva a 17-18 anni su instagram anche se dicono che si stia diventando sempre più trasversale però in effetti sempre più trasversale però alla fine ancora adesso i numeri sono quelli là hanno ragionato alle mie gem sì e lì anche per questo devi c'hai comunque anche lì una diversificazione anche di pubblico prima si concentravano tutti su un social adesso si concentrano su vari su vari social e alla fine sono cambiati tantissimi numeri veramente tanto in poco tempo poi noi diciamo dal 2010 2015 no c'è stato ma alla fine è poco è poco tempo i numeri sono cambiati tanto sono veramente cambiati soprattutto diciamo nella tv cioè nel senso i numeri proprio nella tv si come dicevo prima c'erano dei numeri pazzeschi di 8 10 milioni adesso fai 2 milioni e mezzo 3 milioni 3 milioni e mezzo qual'è il prossimo adesso insomma vabbè patriarca è chiuso però il tuo lavoro continuo avete già visibilità sui prossimi progetti? allora sì nel senso ci sono delle cose delle case di produzione con cui lavoro ci hanno dei nuovi progetti in cantiere delle stagioni nuove di progetti diciamo che sono andati in onda o cose nuove altre altre cose nuove ed è il progetto che ti ha dato più soddisfazione a oggi? in tutti questi anni? eh ce ne sono tanti ce ne sono tanti però ogni progetto diciamo alla fine ti dà una soddisfazione no? perché comunque c'è quello che ti dà soddisfazione per quanto riguarda i numeri che fa dei numeri pazzeschi c'è quello che ti dà soddisfazione per diciamo il le interazioni o per il progetto stesso per esempio mi ricordo qualche anno fa prima di della pandemia c'è stato eh un progetto che si chiama una fiction che si chiama Made in Italy sì la conosciamo bene perché era prodotta con le family sì sì io in quel senso sono venuta Lucina e Agopanini sì sì ed è stato eh ha fatto non ha fatto grandissimi numeri eh in televisione è andata bene sui social però era un prodotto fatto di una qualità pazzesca allora lì c'hai dei comunque delle soddisfazioni che vengono anche da dai commenti delle persone eh no dalle interazioni eh diciamo ogni progetto ti dà una soddisfazione per esempio questo della dislessia pure è stato bello perché comunque si è potuto parlare eh attraverso anche dei video social così della dislessia attraverso così comunque ogni progetto c'ha ti dà ti dà comunque ti dà delle cose è stato bello Grazie a tutti.